Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati su VRC7 pronti per affrontare un altro campionato cioè un altro campionato, siamo in un altro rally, siamo in Argentina dopo la sconfitta francese che non è stata delle migliori, cerchiamo di riportarci in sella al campionato cercando di fare del nostro meglio in questa nuova località siamo in Argentina ragazzi, allora cominciamo subito con il giorno 1 dove avremo come il TS1, l'SSS e il TS3 allora la prima tratta si tratta di 6,95 km, la seconda è uno di quei circuiti a 8 di 6,04 km mentre la terza sarà un altro circuito lineare di 6,26 km cercheremo di dare il nostro meglio e cerchiamo di mantenere alta la classifica siamo pronti, si parte subito gran premio di Argentina, questo è tosto ragazzi, però siamo finalmente nello sterrato e non sull'asfalto preferisco le gare su sterrato a dire la verità ok, siamo pronti siamo pronti per partire, attenzione ragazzi con la nostra Ford Fiesta ok, nervi saldi ragazzi, prima marcia, freno a mano tirato e via, si parte, via cento, destra sette, lunga, apre, cinquanta, sinistra piena, lunga, sude, quaranta accendiamo i pari anche se siamo di giorno come sempre comodo destra cincio, curta, in sinistra due, ringi, trenta destra tre, non tagliare, in sinistra sei, ringi, non tagliare, trenta attenzione, attenzione, attenzione al velo, al velo ragazzi attenzione, destra sei, freno pesante in sinistra tre, in sinistra cinque, quaranta destra nove, curta, intornante sinistro, non tagliare, in destra sette, chiude quattro, frenta destra tre, apre, in sinistra quattro, in destra cinque, chiude, furta cinquanta dimostra quattro,��ata, sinistra quattro, curta, non tagliare, in destra nove, fuzza, quaranta sinistra otto, inchi, lunga, 2, 50, e destra otto e sinistra 4, porta, e destra 6, lunga, chiude 5, e chiude 3, porta, e sinistra 4, porta, 30, e sinistra 5, lunga, spingi, e destra 7, 30, e sinistra 5, chiude, porta, spingi, 30, destra 4, e tornante sinistro, non tagliare, e freno pesante, destra 1, e sinistra 8, 30, non è andata bene, e sinistra 2, e sinistra 8, e destra 8, e destra 5, porta, 15, e sinistra 4, porta, e destra 3, porta, e sinistra 8, apre, su cima, e sinistra 5, porta, 40, e sinistra 5, lunga, spingi, 30, e destra 4, porta, e sinistra 6, molto lunga, chiude 2, e destra 4, ringi, 30, frena, e sinistra 1, e destra 8, chiude, tornante destro, 15, e sinistra 7, porta, e sinistra, attenzione, frena, specchio a sinistra, apre, e destra 9, e sinistra 4, 40, e destra 5, apre, 50, destra 9, porta, e sinistra, attenzione, frena, sinistra 6, ringi, e destra 3, non tagliare, e sinistra 4, ringi, e destra 6, chiude, lunga, tossi, 40, destra 6, chiude, attenzione, frena, perante, e sinistra 4, ringi, e destra 6, chiude, lunga, tossi, 40, 40, sinistra 6, 30, curta, di destra 9, 30, sinistra 6, curta, di destra 8, e sinistra 3, lunga, ringi, di destra 2, curta, non tagliare, 30, 50, destra 5, 50, sinistra 4, 40, destra 5, curta, indossi, 50, sinistra 8, su cima, in destra 5, molto lunga, chiude, di sinistra 5, su cima, chiude, in destra 5, 40, curta, sinistra 3, non tagliare, Apre, 50, dentro 8, su cima, tre, ringi, sinistra 7, apre, e completate. Beh, come prima tappa direi che ci siamo comportati abbastanza bene ragazzi, che ne dite? Allora, abbiamo completato la prima tappa al primo posto, dando 17 secondi a Odd Tanak, ok, direi che siamo in bolla ragazzi, senza riscaldamento, abbiamo cominciato così e direi che siamo andati abbastanza bene, ho le mani un po' che mi fanno male però, siamo pronti, siamo pronti per la seconda tappa, si tratta di un circuito a 8, questa volta di 6 km, 0,4, cercheremo di dare il massimo ragazzi. In destra 4, Apre, ringi, in secca sinistra, porta, in destra 4, e attenzione, tornate sinistro, su picclocio, apre, in destra 6, a fondo, 40, destra 5, chiude, ringi, in sinistra 3, lunga, in picclocio, in destra piena, su cima, chiude 4, e apre, su puzza, 30, destra 7, chiude, ringi, in picclocio, chiude, ringi, in picclocio, in, puzza, in sinistra 7, porta, su cima, destra, destra 7, chiude, ringi, in sinistra 3, tagliare, apre, in destra 3, apre, sopraponte, in sinistra 3, in destra 5, e destra 5, prena, in sinistra 3, ringi, e destra 8, prena, in secca sinistra, su picclocio, apre, lunga, su cima, no, 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 dai, non rovinare tutto, in destra 4, curta, apre, su dosso, in sinistra 8, chiude 3, in picclocio, in sinistra 8, in attenzione, in cima, in destra 3, in conca, in sinistra 7, in sinistra 5, chiude, su cima, in destra 5, curta, su cima, no, che cacchio, attenzione, non mi sta concentrando, in sinistra 3, contro pendenza, su cima, ringi, in sinistra 3, apre, in sinistra 3, apre, in salta, in taglia, 30, destra 8, curta, in sinistra 3, pariare, in destra 6, su cima, 40, in destra 4, curta, in sinistra 4, chiude 2, e sotto fuote, destra 4, curta, apre, lunga, spingi, in secca sinistra, curta, in destra 4, e attenzione, tornante sinistro, su picclocio, apre, in destra 6, 40, destra 5, chiude, spingi, in sinistra 3, lunga, in picclocio, di destra piena, su cima, giude 4, e apre, su cruzza, prenda, sinistra 2, di destra 7, dai a sinistra, e destra piena, su cima, frena, tutta fronte sinistro, apre, in crocio, in destra 8, apre, liga, in crocio, in forza, in forza 7, curta, su cima, destra 7, ringi, in sinistra 3, tagliare, apre, in destra 3, apre, su fracorte, in sinistra 3, in destra 5, in destra 5, frena, in sinistra 3, ringi, in destra 8, frena, in secca sinistra, su di crocio, apre, liga, attiva, la coda, ma che cacchio? In destra 4, urta, apre, sudosso In sinistra 8, chiude 3 In incrocio, sinistra 8, attenzione, cima In destra 3, in conca In destra 7, in sinistra 5, chiude, su cima In destra 5, urta, su cima Stesso errore di prima, ragazzi In destra 3, contropellenza, su cima In sinistra 3, apre, in sinistra 3, apre In salta, taglia, 30 In destra 8, curta, in sinistra 3, tagliare In destra 6, su cima, 40 In destra 4, curta, in sinistra 4, chiude 2 Ho voluto restiare Oh oh, ce l'abbiamo fatta ragazzi Mamma mia, è stata un po' impegnativa Però ci siamo giocati comunque un primo posto Dando 4 secondi a Gerry Matti Letvala E sono contento, sono contento che siamo riusciti a recuperare Comunque, passiamo alla prossima tappa ragazzi Questa volta si tratta di 6,26 km È il Condor, copina Vediamo di cosa si tratta ragazzi Sembra bella tosta E mi sa che siamo anche al buio E forse mi sa che piove anche Non lo so Vediamo, no? Sembra di no Pioggia non ce n'è Però siamo al buio ragazzi Ok, si parte subito A Maria Mamma mia, è dura Dura da tenere in strada Oh, sento, sento Ehi, 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 ehi Mamma mia, non si capisce un cacchio di ragazzo Si capisce un cacchio E' tutto un cacchio di casino qui in mezzo Ma questo è un percorso da fuoristrada Guarda, non da nervi ragazzi Apre, non tagliare In sinistra 6 In destra piena Trenta Attenzione Preno pesante Destra 4 Intornante sinistro Discesa Trenta Eh, va buio Pure stretto Oh, attento, 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 attento Mamma mia ragazzi Mamma mia, ma che è sta cosa Questa è peggio delle montagne russe sta posto In destra 5 In sinistra 7 Chiude 4 Porta in destra 8 E cima Stringe In destra 5 Porta in sinistra 2 In destra 2 Lunga, allarga In sinistra 3 In sinistra 3 Ringi E cima In sinistra 4 Porta in taglia In sinistra 2 Porta in destra 3 In sinistra 7 E tornante aperto sinistro Non tagliare In tornante destro In destra 6 Curta in sinistra 2 Chiude Non tagliare In destra 2 Curta in sinistra 3 Curta In destra 3 In cima Apre In sinistra piena Ringi 50 Attenzione Destra 3 E sinistra 3 Chiude In destra 7 Porta In sinistra 5 Chiude 3 In destra piena De spinge Sopra ponte Renta E attenzione In destra 2 Sinistra 9 Chiude 40 Attenzione Sinistra 3 Porta in ponte Stringe In sinistra 8 Su salta In sinistra 3 Chiude 2 Non tagliare In destra 7 Su cima In sinistra 1 In destra 1 Su cima Stringi 40 40 Sinistra 2 Chiude Non tagliare In destra 3 Molto lunga Chiude Carino Attenzione Torniamo in pista ragazzi Non siamo caduti Non siamo caduti nel burrone ancora Intornante aperto sinistro Non tagliare Cento Intaglia Intornante destro Non tagliare Intornante sinistro In sinistra 1 Curta in destra 3 Apre 60 Intornante destro Intornante destro Non tagliare In sinistra 8 Apre 50 Attenzione Sinistra 7 Corta Freno pesante E tornanti aperto sinistro In destra 3 Lunga In sinistra 3 Apre Intornante Intornante In destra 3 E tornante destro Apre Frena E attenzione Tornante stretto sinistro E destra 6 Trenta In sinistra 7 Su cima In destra In sinistra piena Lunga E completato Non si vede Mamma mia Che tappa Ragazzi Mamma mia Che tappa Ragazzi Ci siamo fatti Un sesta posizione 22 secondi Abbiamo perso Abbiamo perso Un casino Uh Comunque Ragazzi Siamo ancora in prima posizione Con 3 secondi Quasi 4 Di vantaggio Da Jerry Matilletvala E Comunque Sono contento Ci è andata abbastanza bene Dai Non siamo caduti nel burrone Fino a distruggere totalmente la macchina E niente ragazzi Concludiamo qui questo video Mi raccomando Non mancate il prossimo episodio Dalle ore 15 Rimanete sintonizzati Spoliciate se vi è piaciuto il video Iscrivetevi al canale Se non vi siete ancora iscritti E Ciao a tutti